ovvero sia quella di tirare finalmente fuori le palle con Bruxelles senza andarci col cappello in mano e quindi ridiscutere tutti i folli vincoli europei partendo dalla follia più evidente che è l'euro. Fuori dall'euro riparte il lavoro. Abbiamo cominciato ieri da Firenze con una tappa che ha visto il tutto esaurito anzi gente che non è riuscita a entrare in sala. Le date ad oggi in calendario per questo basta euro tour sono sabato prossimo a Milano sabato 22 febbraio alle ore 15 con l'esordio vero e proprio anche perché l'auditorium tiene mille persone quindi contiamo di fare il tutto esaurito. Poi le prossime date in programma sono il 15 marzo a Torino il 23 marzo a Padova, il 5 aprile a Genova, il 12 aprile a Reggio Emilia, intorno al 15 aprile Udine, il 4 maggio Bergamo e il 10 maggio Roma e chiudiamo proprio a Roma perché la battaglia per un'altra Europa e contro questo euro è una battaglia non solo del nord ma probabilmente riusciremo a fare anche un'altra tappa al sud o in Puglia o in Sicilia per dire che stiamo radunando un sacco di movimenti, di associazioni territoriali di associazioni sindacali, di realtà imprenditoriali che vogliono aggregarsi a questa nostra iniziativa giusto per dare qualche numero ci sarà un sito dedicato bastaeuro.org da cui si potranno scaricare le 20 pagine del libro ultra documentato numeri alla mano e grafici alla mano con le 31 domande e le 31 risposte agli euro pirla, a quelli che l'euro non si tocca perché è così si fa male, stia morendo e fa niente, non si tocca, è irreversibile quindi grazie al professor Borghi a cui poi cedo il microfono si danno tutte le risposte ai dubbi su fuori dall'euro che fine fa il mio mutuo, che fine fa la pensione, come faccio a fare la spesa, quanto costa la benzina e tutte le preoccupazioni dal debito pubblico alle materie prime a cui siamo chiamati a dar risposta sfidiamo tutti gli euro entusiasti a fare un libricino con le loro alternative quindi a darci i 31 perché l'euro fa bene alla nostra economia e al nostro lavoro temo che sarà una sfida senza risposta sono già in distribuzione 300.000 volantini pieghevoli appunto sull'altra Europa è possibile la nostra non è solo protesta ma è solo proposta che stiamo costruendo con Marine Le Pen, con gli austriaci, gli olandesi, gli svedesi, i fiamminghi, i finlandesi e chi più ne ha più ne metta e poi ci sarà un corollario di gadget, penne, adesivi, palloncini e tutto quello che potrà aiutarci a sfondare il muro del silenzio contiamo di raggiungere e contattare durante questo tour almeno 50.000 persone dal vivo oltre a tutte quelle che si collegheranno online e a quelle che ci seguiranno via radio visto che fra i papabili nomi prossimi venturi non sono in seconda fila quella di Prodi e di Monti a vario titolo con vari incarichi noi preannunciamo fin da adesso a Matteo Renzi che se per caso o nella compagine di governo o a qualche titolo anche maggiormente rappresentativo o il signor Prodi o il signor Monti avranno un qualche ruolo siamo pronti a presentare una denuncia nei confronti sia dell'uno che dell'altro con azione di risarcimento in sede civile e penale per i danni miliardari che le loro attività hanno comportato all'economia, al lavoro, all'agricoltura, alla pesca, al commercio, all'artigianato a tutto quello che è Italia in particolare al nord quindi spero che nella nuova compagine di governo nuova insomma spero che nel governo che verrà non ci siano alcuni residuati bellici che tanti danni hanno fatto regalando, anzi svendendo sovranità e lavoro quindi segnatamente nei confronti del signor Prodi e del signor Monti siamo pronti a muoverci e siamo convinti di avere la maggioranza degli italiani a sostegno di questa eventuale azione detto questo io ringrazio il professor Borghi che ci mette la faccia e lo studio e la fatica perché queste 31 risposte alle 31 domande degli eurofessi saranno quelle che continueremo a riproporre in tutte le sedi e a chiunque cioè ci spieghino il perché l'euro non si tocca o l'euro fa bene purtroppo dall'altra parte ci sono solo ritornelli e frasi vuoti in queste 20-25 pagine noi documentiamo il perché numeri alla mano fuori dall'euro il lavoro riparte e quindi in tutte le aziende che stiamo andando a visitare il sentimento è lo stesso quindi io cedo la parola a Claudio Borghi prima di rispondere a eventuali domande vi ringrazio ringrazio Matteo Salvini che è l'unico che ci ha messo la faccia lui dice ce la metto io no io non ci sto mettendo la faccia perché io sto dicendo cose che nel dibattito economico sono ormai non controverse sono accertate vi stanno facendo credere che queste sono teorie eretiche che sono teorie controcorrente e così questo tipo quando non è vero non c'è nessuno non c'è nessun economista serio in giro che dica che l'euro è il migliore dei mondi possibili segnatamente per l'Italia non c'è nessuno per cui io non sto dicendo che mi invento delle cose o che ho creato una teoria mia che è minoritaria anche perché non sono un ricercatore non sono un economista accademico io vengo dal business e quindi non faccio nulla semplicemente tutti ormai sanno quello che nel dibattito economico sanno quello che c'è scritto poi dopo nel libretto la mia fatica è stata quella molto banalmente di spiegarlo di cercare di rendere questi concetti che ripeto non sono eretici ma sono ormai accertati e chiari nel dibattito economico internazionale a chi dell'economia legittimamente ha poco interesse per cui molto banalmente per casalinghe operai impiegati lavoratori di diverso tipo che giustamente hanno una conoscenza dell'economia limitata e che in buona fede si beccano tutte le bugie che vengono ogni giorno ogni giorno trasmesse dai media e da chi invece vuole sostenere o mantenere lo status quo devono avere modo di capire cosa sta succedendo ma non con formule ma non con numeri tabelle o così questo tipo che poi dopo sono buoni solo per gli economisti gli addetti lavori a cui tanto non c'è bisogno di spiegarle le cose perché già le sanno semplicemente con concetti cercare di far capire come e perché siamo messi in una certa maniera e come e perché potremmo venirne fuori cos'è stato il motivo di base il motivo di base è rendersi conto che ah sta finendo il tempo sta finendo il tempo quando vi dicono che c'è la luce in fondo al tunnel e così questo tipo andiamo a prendere quanti anni sono che ce lo dicono intanto nel frattempo quanto abbiamo buttato via di capitale di ricchezza di valore di ma anche soltanto poi dopo senza guardare il materiale perché è un'impresa che chiude poi dopo viene rimetterla in piedi è lunghissimo guardiamo la sofferenza guardiamo quello l'immateriale che non viene pagato l'angoscia l'angoscia di chi arriva a casa deve raccontare poi dopo a sua moglie e ai suoi figli che è stato licenziato perché la fabbrica delocalizza in Serbia o da qualche o da qualche altra parte o banalmente perché i prodotti non vendono più non è possibile non è possibile continuare a sopportarlo e per cui abbiamo detto signori dobbiamo venirne fuori ne verremo fuori democraticamente perché è interesse di tutti siamo già entrati senza che nessuno ci abbia chiesto nulla cioè nell'euro noi siamo entrati così per acclamazione non c'è stato il referendum per chiederci se dovevamo entrare nell'euro non c'è stata nessuna informazione che spiegava che cosa sarebbe successo quando si entrava nell'euro gli economisti che prevedevano tutto quello che sarebbe successo venivano bollati come gente che era invidiosa della meraviglia dell'euro erano americani e quindi temevano che il dollaro sarebbe stato messo in difficoltà da questa geniale trovata dell'europa quindi non andavano ascoltati erano screditati ecco vediamo di non rifare gli stessi errori e l'unica maniera per uscirne in modo democratico è informare far sì che la gente sia consapevole di quello che è successo poi dopo la battaglia si giocherà in europa perché o si riuscirà a mettere d'accordo tutte queste forze che in altri paesi dove l'informazione forse è un po' migliore sono maggioranza perché Le Pen è maggioranza in Francia Wilders è maggioranza in Olanda in Inghilterra vogliono addirittura pensare di uscire dalla UE perché dall'Unione Europea perché tanto in ogni caso già la sterlina loro ce l'hanno e stiamo parlando quindi di paesi grandi nell'euro periferia tutti i zitti che sono quelli più danneggiati perché stanno venendo pagati e li paghiamo noi perché forse non tutti sanno che la Spagna che viene messa come esempio di successo di meraviglia si può fare come dicono loro sono più 0,2 come crescita quest'anno più 0,2 hanno il 26% di disoccupazione ma ciò nonostante sono più 0,2 con 50 miliardi pagati per il 20% da noi quindi significa che noi abbiamo dato alla Spagna per salvare le sue banche 10 miliardi ve l'hanno raccontato quanto tempo abbiamo perso a vedere se non si trovavano i 150 milioni per la mini IMU e non li abbiamo trovati siamo andati poi dopo a fare la coda davanti ai CAF per capire quanto diamine bisognava pagare e se abbiamo sbagliato riceveremo una sanzione fra poco per milioni intanto venivano dati miliardi alla Spagna per salvare le sue banche nostri ve l'hanno detto non ve l'hanno detto qualcuno vi racconta che sempre per salvare le banche creditrici dei paesi dell'Europa del Sud noi fino adesso abbiamo impegnato 53 miliardi con i fondi salvastati se noi avessimo avuto 53 miliardi di debito pubblico in meno forse adesso i nostri conti sarebbero un pochettino differenti per che cosa? per ottenere una cosa che non costava nulla vale a dire una banca centrale che garantisce il debito e cosa costava far pronunciare a Draghi le parole whatever it takes nulla ed è il minimo sindacale per una banca centrale per quello che succede in tutto il resto del mondo quindi ci stanno fregando ci stanno indebolendo la nostra economia in maniera costante ci stanno facendo pagare per debiti che noi non abbiamo contratto cifre pazzesche e chiunque prova ad alzare il ditino per dire ma scusate così non va viene seppellito da bugie i mutui la benzina andranno alle stelle le ricchezze diminuiranno del 40% come se la volta che noi uscissimo dall'euro nella nostra casa di 100 metri quadri arriva uno della BCE ci tira su un muro nel salotto e perdiamo il 40% della casa come se non so avessimo una collana diventa il 40% più corta e ci strozza non so ma perderemo potere d'acquisto perderemo potere d'acquisto ma il potere d'acquisto lo perde chi viene licenziato a chi viene quello famoso a cui viene battuta la mano sulla spalla e dice ciao sai cosa c'è di nuovo la ditta chiude tu sei a casa cosa succede al potere d'acquisto di questa persona e invece guarda caso ci dicono che noi perderemo potere d'acquisto se usciamo dall'euro ci dicono che ci sarà l'inflazione ma signori ma innanzitutto abbiamo visto che tutte le svalutazioni in giro per il mondo recentemente non hanno portato inflazione ma l'inflazione vuol dire che i prezzi salgono e se i prezzi salgono è perché c'è qualcuno che compra in questo momento noi abbiamo la deflazione perché le robe rimangono lì negli scaffali quindi ci sono una marea di bugie io ho cercato e non è stato semplice perché so che sarò attaccato da miei colleghi so che sarò attaccato da altri economisti che vogliono invece continuare a portare avanti queste bugie e allora ho dovuto cercare di scrivere tutto in maniera ineccepibile quindi non credo che troverete una riga nel manualetto che sia attaccabile o che sia una bugia se c'è vi prego di dirmela siamo sempre in tempo per fare una seconda edizione dove l'errore o la bugia verrà corretta quindi conto che tutto venga diffuso il più ampiamente possibile in modo tale da dare la possibilità a chi pensa che sia falso quello che c'è scritto di farmelo sapere e io ringrazierò e correggerò chiaro eh quindi però se è tutto vero e temo che lo sarà tutto vero dobbiamo domandarci perché stiamo perdendo una marea di tempo a parlare di nulla e non dedicarci invece a quelle che sono le cause alla radice della crisi l'intento è quello e l'intento è di farlo capire a tutti grazie Claudio chiudo le prime mille copie della versione definitiva del libro saranno distribuite sabato pomeriggio ai primi mille che arrivano evidentemente inviteremo anche tutti i 1500 sindaci dei comuni lombardi visto che gli enti locali e i comuni sono i primi ad essere stati massacrati e assassinati dalle politiche europee quindi tutti i sindaci a prescindere dal colore politico sono invitati a venire ad ascoltare a venire a proporre perché le realtà locali sono quelle che più di altre sono state devastate da queste demenziali politiche europee faccio solo l'esempio del patto di stabilità che impedisce di spendere soldi per mettere in sicurezza fiumi e montagne quindi solo un cretino può non accorgersi del fatto che queste politiche questi vincoli questa moneta ci hanno massacrato e sfidiamo io sono convinto che sia una battaglia che non ha colore politico non è di destra né di sinistra perché l'esodato non è di destra né di sinistra quindi aspettiamo stanno aderendo a queste iniziative tante persone che con la Lega non c'entrano niente e quindi questa è la mia massima soddisfazione sindacati associazioni categorie realtà imprenditoriali gente che con la politica c'entra nulla ma con l'euro c'entra e quindi contiamo di fare da traino nel libricino ci sono anche le frasi celebri degli eurofessi e smontiamo ad esempio ricordiamo anche due frasi una di Grillo e una di Casaleggio perché gli anti-euro a singhiozzo alla fine non portano da nessuna parte Grillo che disse non ho mai detto di uscire dall'euro e Casaleggio che disse fuori dall'euro non si risolvono i problemi quindi qua anche qua gli elettori 5 stelle che pensano di votare qualcuno che è anti-euro e invece vengono presi per il naso domande sì sì perfetto chiaro la domanda per chi ci segue la casa dell'attento giornalista è che cosa succede dopo eventualmente riuscisse nel vostro intento io do 20 secondi di risposta politica e poi lascio la fuoriuscita economica già il dibatterne per noi è un successo perché dire qualcosa di fuori posto sull'euro comportava il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario fino a un anno fa già aver aperto il dibattito aver aperto il fronte aver aperto milioni di occhi sul fatto che questo euro sia la morte per noi ha del miracoloso perché solo la lega ha votato esempio contro il fiscal compact stiamo vedendo se a livello di regioni che amministriamo è possibile fare un ricorso in corte costituzionale contro il fiscal compact che se ne fotte della costituzione e dei diritti riconosciuti in costituzione quindi già prima eravamo soli e adesso siamo un po' meno soli sul dopo il dibattito sia politicamente che economicamente mi sembra che sia aperto Claudio ha una sua risposta non c'è tu curi il ritorno alla lira ci sono vari scenari e te ne lascio uno allora è ovvio che ci stiamo pensando no? perché dire ci stiamo lavorando più che ci stiamo pensando ma ci stiamo lavorando il network europeo perché come ripeto non siamo noi siamo gli ultimi del treno in Francia ripeto abbiamo come partito di maggioranza relativa con un sistema peraltro maggioritario quindi rischia che se domani si votasse la Francia sarebbe governata da Marine Le Pen di un partito che dice molto banalmente il secondo dopo che io prendo che io sono eletto presidente della Francia noi usciamo dall'euro per cui in Francia il dibattito è avanti rispetto a quello che infatti è un'attività in salita la nostra quella che facciamo perché siamo dall'altra parte abbiamo in Italia schierato quello che noi chiamiamo il PUDE il partito unico dell'euro che sotto diverse sigle poi dopo invece governa liberamente con sfumature dettagli tolgo un po' da questo tolgo un po' da quell'altro ma l'euro non si tocca quindi con tanti economisti di altri paesi specialmente quelli che sono diciamo che hanno firmato il manifesto di solidarietà europeo che rispondeva a una domanda vale a dire come si smantella questa eurozona preso atto che non funziona abbiamo diverse possibilità quanto più sono condivise con gli altri quanto più facili sono da realizzare vale a dire se già solo l'Italia si coordina con la Francia per uscire smantellando in due il blocco dell'euro già è molto più semplice da realizzare dal punto di vista pratico e nel dettaglio ci stiamo studiando proprio su come bisogna fare che decreto cosa come scrivere anche se vi posso anticipare che dal punto di vista legislativo anche qui le cose sono abbastanza semplici non è troppo diverso quello che bisognerà scrivere come legge da quello che è stato scritto quando si è passati dalla lira all'euro basta utilizzare quello e ricordarsi ovviamente invece di fare 1936,27 che era una follia iniziale ma non perché fosse sbagliato il cambio il numero di questo tipo era anche sbagliato ma perché già bisognava capire che uno che faceva un tasso di conversione a 1936,27 non aveva tutte le rotelle a posto per sistemare un cambio quello che succederà quando riprenderemo la nostra valuta sarà un tasso di conversione uno a uno su questo tutti gli economisti concordano è anche trattato nello specifico nel libretto quindi significa che chiunque aveva una pensione di mille euro avrà una pensione di mille fiorini dico fiorino potete metterci quello che volete perché non voglio che uno ripensi alla lira la lira è morta cioè non c'è più e purtroppo l'abbiamo uccisa quando abbiamo fatto la conversione quindi se vogliamo chiamarla a lira va bene ma altrimenti la chiamiamo fiorino tallero scudo quello che vogliamo euro lira non cambia niente però il tasso di conversione sarà uno a uno chi aveva una pensione di mille euro avrà una pensione di mille fiorini un giornale invece di costare un euro e venti costerà un fiorino e venti quindi uno non deve cambiare proprio neanche i prezzi il giorno dopo non ci si accorge di nulla non c'è la gente che deve cambiare l'etichetta e poi dopo ci lucra sopra così come è successo sull'euro non c'è nessuna differenza molto semplicemente le altre monete al di fuori da quella usata in Italia avranno un loro cambio ma ci interessa esattamente come adesso ci interessa il cambio dell'euro col dollaro non è che ci svegliamo la mattina e se l'euro si è svalutato nei confronti del dollaro diciamo Dio siamo più poveri la casa si è ridotta o cose di questo tipo ci saranno alcune cose che saranno più convenienti altre che saranno meno convenienti ma di sicuro rispetto al nostro principale concorrente che non è un alleato è un concorrente commerciale vale a dire la Germania le competitività si riequilibreranno subito ci costerà un po' di più andare a comprare prodotti fabbricati in Germania e costerà molto di meno a un tedesco andare a comprare prodotti fabbricati in Italia o venire qua a fare le ferie o così questo tipo l'euro a due velocità è la maniera migliore per iniziare a smantellare la questione in modo più indolore possibile cioè vale a dire se la Germania e gli altri se ne vanno dall'alto diciamo così a quel punto è molto più facile gestire la cosa e poi dopo man mano smantellare il resto l'obiettivo finale è la riconquista della sovranità monetaria nazionale ed eventualmente anche oltre perché questa cosa ci può aver fatto capire alcune cose vale a dire che una moneta per aree economiche diverse è sbagliata e quindi possiamo non è un tabù è una mia proposta non è quella immediata e definitiva possiamo anche ragionare a due monete per l'Italia dall'altra parte però in ogni caso l'euro a due velocità è la maniera più indolore ma ha un difetto incredibile dipende dalla volontà degli altri se ci dicono di no quando uno dice ah ma è facile risolvere il problema della crisi andiamo chiediamo di spendere facciamo battiamo i pugni sul tavolo che non c'è e se ci dicono di no come è sempre successo che cosa facciamo abbozziamo loro sanno che la risposta è sì abbozziamo e infatti stiamo abbozzando da secoli invece è molto banale noi la soluzione più facile è quella lì se ci dicono di no andiamo per fatti nostri allora se Renzi è interessato ad avere la voce del nord noi pigliamo il treno seconda classe e ci andiamo se è interessato e noi non ci invitiamo in casa altrui senza che che ci ospitino e quindi se è interessato a sentire però la voce dei territori ribadisco quello che ho già proposto anche al presidente napolitano se è interessato non ci va il segretario di partito punto ma ci va quantomeno con un sindaco con un presidente di provincia di montagna e con un governatore di regione a parlare di proposte assolutamente concrete a partire dalle tasse che devono rimanere sul territorio se ci dicessero di sì è chiaro che mai nella vita la Lega entra in un governo a trazione di centro-sinistra però c'è modo e modo di fare opposizione mettiamola così sulle beghe all'interno del centro-destra posso solo dire che me ne dispiaccio perché la cosa che più infastidisce gli elettori infatti in Sardegna per la metà sono rimasti a casa sono le beghe che non si capiscono mi dispiaccio delle beghe Renzi-Civati e mi dispiaccio delle beghe Berlusconi-Alfano perché non portano nulla non portano nulla l'impegno della Lega è quello di non begare ma proporre detto questo alle elezioni europee saremo liberi e forti da nord a sud anzi arrivano tantissime richieste incontri pubblici anche nel centro-sud e due date del no euro del basta euro tour una a Roma e una in altra realtà del sud la faremo detto questo ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza e la padagna quindi anche il discorso monetario ovviamente è perfettamente compatibile con le diversità che ci sono anche internamente all'Italia l'argomento dell'euro e dell'Europa è l'argomento con la maiuscola tutto il resto è una conseguenza il lavoro gli artigiani gli esodati i pensionati il patto di stabilità la Electrolux sono tutte conseguenze di un'Europa a serva di Berlino e di Bruxelles quindi bisogna capire se Renzi è l'esatta continuità e la controfigura di Monti e di Letta può essere o se invece gode di autonomia di pensiero di parola e di azione a giudicare dai suoi primi sponsor sono preoccupato perché i primi entusiastici commenti dalla Commissione europea dalle banche dai mercati non sono di buon auspicio però andiamo a vedergli le carte in mano l'obiettivo è crescere rispetto alle ultime elezioni poi non mi pongo limiti nel bene l'aria è buona i dati sul tesseramento sono positivi tanti leghisti che l'anno scorso hanno votato per Grillo per Berlusconi o sono rimasti a casa si sono riavvicinati e queste dieci tappe servono anche a dare risposte concrete quindi non mi do limiti a rialzo penso a rialzo poi non do numeri perché già li sparano altri però siamo e poi soprattutto la differenza fondamentale rispetto a tutte le altre elezioni europee è che la Lega fa parte di una comunità che a Bruxelles ci sarà di un gruppo non siamo battitori liberi a posto grazie mille grazie mille